Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati su Link for the Universe e benvenuti per un nuovo Astrocafè e questa mattina è un'edizione un po' speciale, perché avevo già parlato abbondantemente delle fasce di Van Allen e del modo in cui le navicelle spaziali hanno oltrepassato in passato questa regione andando verso la Luna e come ci prepariamo per farlo di nuovo, ma c'è una cosa che a quanto pare è rimasta un po' in sospeso perché in tanti me lo state chiedendo, e riguarda delle affermazioni che alcuni astronomi e tecnici della NASA hanno fatto che alcuni hanno destato sospetto, cioè affermazioni che sembrano mettere in dubbio che siamo andati mai oltre la bassa orbita terrestre vediamo quali sono queste affermazioni e cerco di chiarire un po' che cosa è successo, cosa stanno dicendo davvero e almeno così siamo tutti sulla stessa pagina, visto che tra poco inizierà la serie intera dedicata all'American Moon e affronterò tutti i temi riguardo Massimo Mazzucco e come siamo andati davvero sulla Luna o se non ci siamo stati ma prima ancora appunto volevo chiarire questo piccolo dubbio, quindi iniziamo con le frasi eccoci qui, queste sono le tre frasi che di solito vengono citate di più, però premessa generale le ho prese da un discorso molto più ampio e questa è una delle cose a cui dovete badare di più quando le vedete citate online ricordatevi che fanno parte di interviste o magari discorsi molto più lunghi quindi non fidatevi soltanto della singola parola o frase, guardate tutto il contesto perché magari fa la differenza quando un astronauta per esempio parla di come le sfide future ci porteranno oltre la bassa orbita terrestre se andate a vedere nel discorso completo magari scoprite qual è il soggetto, di che navicella si parlava e perché si riferisce a sfide future e non alle navicelle passate, quindi questo è importante ma partendo con ordine, la prima polemica è intorno a una frase di Kelly Smith che è uno degli ingegneri che ha lavorato ai sistemi di guida di una nuova navicella della NASA chiamata Orion che serve per le future missioni Artemis sulla superficie della Luna nei anni 20 ora, queste navicelle sono le prime che abbiamo mai costruito dai tempi delle missioni Apollo che sono in grado di arrivare nello spazio profondo e ritornare a casa le navicelle successive, per esempio i shuttle, erano troppo fragili per rientrare ad altissima velocità dopo un viaggio come per esempio quello sulla Luna e non avevamo modo di fare quei tipi di viaggi perché non avevamo razzi abbastanza grandi razzi giganteschi come il Saturn V costano un botto e la NASA non ha mai avuto budget abbastanza alti per cui dopo alla fine delle missioni Apollo non ebbe mai la possibilità di fare altri programmi del genere strada facendo poi decenni dopo ha avuto abbastanza soldi per mettere su un nuovo programma anche se con molta più calma rispetto a quanto fu fatto velocemente all'epoca tutto in un decennio e ora sta lavorando alle fasi finali di questo progetto che nel 2024 e nel 2028, insomma in quel periodo porterà di nuovo gli astri umani sulla superficie della Luna quindi Kelly Smith cosa c'entra in tutto questo? beh la navicella Orion parte di questo progetto è l'equivalente della navicella Apollo è il modulo di comando dove gli astronauti staranno all'interno e con cui ritorneranno sulla Terra quindi è molto importante per la riuscita di tutta la missione rispetto alle navicelle Apollo, anche se assomiglia molto per la forma ha un sacco di novità è molto più grande, più spaziosa e la cosa più importante è che è piena di elettronica nuova perché rispetto agli anni 60 abbiamo computer molto più potenti la guida autonoma per esempio, intelligenza artificiale tutte queste cose richiedono un sacco di computer e l'elettronica di ora è più sensibile rispetto a quella passata alle radiazioni questo perché i microchip di ora sono molto 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 più piccoli quindi quando una particella di energia, per esempio un elettrone, un protone carico passa attraverso il computer e lo colpisce può fare molti più danni semplicemente perché ora invece di colpire un microchip molto più grosso con transistor lontani tra di loro colpisce un microchip che ne ha milioni e milioni in una superficie piccolissima quindi può fare appunto molti più danni quando lui dice nel video di questo test della navicella si riferisce a radiazioni come queste possono danneggiare il sistema di guida i computer a bordo e altri sistemi elettronici di Orion questo si riferisce al fatto che dobbiamo testare i sistemi elettronici di guida esposti a livelli di radiazione delle fasce di vanale intorno alla Terra e per quello che dice dobbiamo superare queste sfide quali sfide? queste a cui si riferisce prima per quello è importante leggere tutto il contesto prima di mandare le persone in questa zona dello spazio quindi non significa che non le abbiamo mai risolte ma lui non ha lavorato al programma Apollo lui lavora alla navicella Orion e nel video si parla del primo test che è stato fatto della Orion nel 2014 questa navicella è già stata lanciata ha già fatto il volo fino a 5.000 km dalla Terra è già ritornata passando avanti e indietro attraverso la parte più bassa delle fasce di vanale ed è tornata a casa con un sacco di sensori e dati utili per gli ingegneri per sapere come progettarla in futuro per gli esseri umani se vi chiedete aspetta ma non le abbiamo già testate queste cose perché dobbiamo testarle di nuovo hanno funzionato per le missioni Apollo no quindi perché testarle di nuovo è vero infatti la parte che queste navicelle ha in comune con le navicelle Apollo avete assolutamente ragione le protezioni sono simili ma come vi dicevo qui il discorso non è tanto riguardo alla singola protezione contro le radiazioni ma per vedere se quelle protezioni reggono anche per nuovi sistemi di guida che all'epoca di Apollo non c'erano quindi facendo una navicella nuova vogliono collaudarla visto che è pieno di cose che non c'erano all'epoca i metodi per pararsi delle radiazioni sono simili all'epoca nel frattempo abbiamo fatto anche grandi progressi nelle scienze dei materiali per cui metodi che avevamo applicato come ceramiche e altre cose all'epoca ora sono più avanzati quindi possiamo prendere quello che abbiamo fatto con Apollo e migliorarlo ok? se ora esce una macchina nuova con tecnologie nuove non significa che non c'era mai stata prima soltanto perché la devono di nuovo collaudare lo so che visto così e capisco come potrebbe essere interpretato un po' in maniera maliziosa però se guardate tutto il contesto insieme è chiaro che sta parlando solo dell'elettronica a bordo perché quello è il suo lavoro e il suo campo per questo dice queste frasi ma passiamo alla prossima Samantha Cristoforetti a un certo punto in un'intervista dice in mezzo al discorso anche questo è importante perché in realtà è un discorso molto più lungo quando ci avventureremo più lontani oltre la bassa orbita terrestre questa è solo una delle frasi ma ce ne dice tante simili che trovate su YouTube in vari video in cui si dice che non ci siamo mai andati sulla Luna e questa sarebbe una prova intanto come per lei ma anche per esempio per Kelly Smith perché un tecnico della NASA un ingegnere che lavora a nove navicelle della NASA o astronauti della ESA in questo caso o terrestre della NASA dovrebbero lasciarsi sfuggire che non siamo mai andati se davvero non ci fossimo andati ok che queste sono magari interviste ma il discorso di Kelly Smith è pre-registrato se è pre-registrato perché dovrebbe lasciarsi sfuggire che non siamo mai andati e nonostante tutti gli hanno complottisti eccetera sono arrivati a dirlo sotto perché la NASA non ha mai tolto questo video non ha mai anche nascosto niente perché non è appunto non c'è nulla di misterioso dietro non è qualcosa che prova che non ci siamo mai stati ora Samantha Christofferiti appunto dice che non siamo mai andati oltre l'orbita terrestre oltre l'orbita bassa no! nel discorso più lungo si riferisce a tutt'altro si riferisce al fatto che le navicelle attuali che usiamo non sono in grado come vi dicevo di arrivare oltre la bassa orbita terrestre non solo perché non hanno la protezione che serve per resistere al passaggio attraverso le fasce di Van Allen in maniera sicura ma perché viaggi più lontani richiedono più tempo giusto? fin qui tutto ok? se un viaggio richiede molti più giorni o settimane o mesi come un viaggio verso Marte come le navicelle che stiamo costruendo ora che devono resistere fino a Marte beh in quel caso la navicelle deve resistere nello spazio magari per anni e le navicelle che abbiamo costruito attualmente non sono in grado di reggere così tanto semplicemente per come sono fatte si deteriorano per le condizioni spaziali per cui abbiamo bisogno di migliorare un po' le tecnologie per quelle sfide quindi per esempio quando parliamo delle missioni Apollo sono durate pochi giorni ok? mentre le navicelle che vogliamo costruire ora per missioni molto più lunghi di mesi o di anni devono essere fatte in maniera un po' migliore per appunto le nuove sfide che affrontiamo per questo nell'intervista anche in altri casi Samantha Cristofretti dice riferendose alle missioni Apollo la grandissima impresa di 50 anni fa di andare sulla luna però è stata una cosa breve di qualche giorno ed è finita lì e poi dopo menziona appunto che ora stiamo cercando di fare qualcosa di più grande stiamo andando sulla luna per restare per fare colonie lì per restare magari per settimane o mesi non soltanto di pochi giorni e basta quindi quello che abbiamo fatto con le missioni Apollo non è che non funziona è che vogliamo fare di più quindi Samantha Cristofretti non sta dicendo non siamo mai andati oltre la bassa orbita terrestre sta dicendo che in futuro per avventurarci oltre la bassa orbita ci serve una novecella nuova per questo dice quando in futuro saremo in grado di andare oltre la bassa orbita terrestre si riferisce ai nuovi veicoli non a quelli vecchi e questa cosa non è da interpretare in maniera molto misteriosa la potete vedere letteralmente se guardate tutto il suo discorso non vi fate ingannare da soltanto pezzettini quindi anche in questo caso io ho estrapolato qui i pezzettini perché la lavagna è quella che è ma andate a vedere tutto quanto il discorso prima di decidere per conto vostro e infine abbiamo Terry Wurz che era il comandante della missione in cui c'era anche Cristofretti e entrambi erano sulla stazione spaziale in questa intervista e nell'intervista lui parla di quali sono le sfide per il futuro e racconta di come rispetto al passato ora stiamo costruendo nuove navicelle stiamo costruendo i giganteschi razzi l'SLS della NASA che sta per Space Launch System che sarà grande quanto è e un po' più del Saturn V e sta raccontando di come con quei razzi potremo finalmente andare verso la spazio profondo oltre la bassa orbita terrestre perché i razzi che abbiamo attualmente sono in grado di lanciare soltanto navicelle fino a bassa orbita anche il più potente come lo shuttle lo shuttle poteva essere lanciato al massimo fino a 7-800 km in orbita intorno alla Terra non avevamo razzi sufficientemente potenti da lanciare una navicella fino alla Luna so che spesso ce lo scordiamo ma la Luna è a 400.000 km da noi in media ok? sono tantissimi beh non in media in realtà sono 384.000 km quindi è più vicino pochissimo però comunque resta una distanza gigantesca che non possiamo percorrere con razzi piccoli la frase di Terraverse attualmente siamo in grado di volare solo nell'orbita terrestre più lontano di così non possiamo andare nella bassa orbita terrestre si riferisce ovviamente cosa significa questo? che attualmente non so più come sottolinearlo al momento ora now non abbiamo navicelle con cui andare più lontano attualmente non significa che in passato non ce l'avevamo e di nuovo potreste dire vabbè ma scusa ce l'abbiamo le navicelle Apollo le rifanno perché non le possono utilizzare il problema che devi utilizzarle che sono molto vecchie ok? essendo così vecchie non abbiamo anche modo di riutilizzarle perché andavano per esempio i computer erano molto primitivi rispetto a quelli che utilizziamo ora non ci sono neanche modi per interfacciarsi con cui computer facilmente i sistemi di guida sono antiquati non c'erano neanche i sistemi satellitari che ci sono ora per poterlo utilizzare non è che se tu hai a casa un computer dei anni 80 non funziona più e non potresti usarlo ma magari con computer di ora potresti fare molto meglio giusto? e quello è il punto le navicelle Apollo rispetto a quello che vogliamo fare noi ora sono più adatte ai musei noi vogliamo fare molto di più vogliamo lanciare non soltanto tre persone strettissime in una navicella ma vogliamo lanciarne magari un equipaggio grande quattro cinque persone come appunto le navicelle Apollo scusate Orion che saranno molto più grandi avranno spazio per soltanto gli astronauti ma anche per molti più strumenti molte più camere quindi rispetto al passato appunto stiamo innovando tutto qui andate a vedere l'intera intervista con Terry Verz e Samantha Cristoforetti e vedrete che non c'è niente di misterioso raccontato lì in mezzo ultima cosa quindi come abbiamo fatto a passare oltre le fasce di Van Allen come ci siamo protetti non è radiazione troppo pericolosa non dicevano all'inizio Van Allen aveva detto che è mortale e dovremmo bisogno di una protezione troppo grande detta super in breve perché ho fatto già un video di 45 minuti spiegandovi tutti i dettagli riguardo le fasce di Van Allen cosa sono le radiazioni nello spazio nello spazio non è radiativo ci sono particelle che vengono intrappolate lì dal campo magnetico e vengono intrappolate in una zona che è più densa al centro poi dopo diventa più rarefatta il problema con le radiazioni è quanto tempo passi lì se passi molto velocemente la tua dose di radiazione si abbassa le prime prime sonde che abbiamo mai lanciato che sono passate di lì che hanno scoperto queste fasce quando Van Allen lavorava questi progetti da lì il nome hanno scoperto semplicemente che la radiazione presente era troppo alta per il contatore Geiger che si erano portati quindi semplicemente lo strumento non sapeva come leggere quel livello di radiazione e andava a zero noi sapevamo soltanto che quindi era più alta di questo limite del minimo fine non sapevamo quanto era alta ma gli strumenti erano molto primitivi perché erano negli anni 50 sonde successive hanno scoperto anni e anni dopo che i livelli sono molto più bassi e che variavano quindi poteva essere molto contenuto il livello la maggior parte del tempo tra la Terra e la Luna il livello di radiazione che subivano gli astronauti era paragonabile a quello che avevano in orbita terrestre e quindi il rischio non era altissimo quindi un viaggio fino alla Luna sarebbe paragonabile al rischio che corrono gli astronauti a stare qualche mese in orbita terrestre ma il viaggio fino alla Luna dura meno ok l'orbita terrestre dura di più ma ci sono astronauti che stanno però mesi anni un anno per esempio Scott Kelly in orbita intorno alla Terra la quantità di radiazione che lui ha subito è molto più alta di un viaggio rapido fino alla Luna e ritorno come ci parliamo dalle radiazioni comunque beh per ogni tipo di radiazione c'è un modo diverso per pararsi abbiamo il naviceale Apollo come ottimo esempio perché erano molti strato non hai bisogno di metri di piombo anzi molti metalli non funzionano neanche granché come per pararti dalle radiazioni ci svogliano cose magari molto più sottili ok quindi alcuni tipi di radiazione sono parati molto bene da materiali che contengono idrogeno altri tipi sono parati molto bene da materiali sottili anche per esempio la carta fibre lo so che sembra assurdo ma è questo perché la nostra concezione di come funzionano le radiazioni in generale tende a essere un po' sfasata se volete capire come si paravano gli astronauti dalle radiazioni dovete sapere un minimo di come funzionano le radiazioni ed è un discorso che non posso farvi qui di nuovo riassunto brevemente se però vi dico che gli astronauti sono arrivati fino alla luna e sono stati parati nelle navicelle tanto da non subire radiazioni così alte da rischiare la vita e non vi fidate andatevelo a vedere perché lo spiego cioè non vi dico credete perché dovete credere perché lo dico io sono bello no andate a vedere la spiegazione dettagliata in cui vi mostro come le navicelle erano multistrato come soltanto la parte sotto per esempio erano tutto il modulo di servizio riparava tutte le radiazioni che provenivano dal basso quindi avevano soltanto il problema delle radiazioni che venivano dal lato e poi oltre alla sottile parte della navicella c'era anche tutta la strumentazione perché tutto intorno a lui erano le pareti della navicella erano piene di elettroniche di moduli grossi rispetto all'elettronica di oggi molto semplificata quindi abbiamo bisogno di strumenti nuovi per testarla ma comunque insomma era dentro un ambiente pieno di altra roba e tutta quella la parava la radiazione ok quindi erano relativamente al sicuro rispetto alla durata del viaggio che durava poco se dura di più l'esposizione aumenta e quindi il rischio aumenta ora che vogliamo andare su Marte con le stesse navicelle non solo sulla Luna stiamo costruendo navicelle nuove e queste vanno testate e collaudando la nuova elettronica il nuovo sistema per pararsi prendendo quello che abbiamo imparato delle missioni Apollo e migliorandolo dobbiamo lanciare queste sonde per essere sicuri che funzionano tutto qui spero che ora sia un pochino più chiaro e noi ci vediamo presto con l'intera analisi di American Moon che uscirà in tre parti saranno tre singole analisi quindi diviso nelle premesse le 42 domande e le conclusioni quindi per prima usciranno le risposte alle premesse e poi dopo qualche mese dopo tutte le risposte alle 42 domande e qualche mese dopo la conclusione quindi nell'arco della prima metà spero del 2020 si concluderà tutto il nostro percorso di analisi di American Moon quindi con calma facciamo tutto ma intanto almeno questo spero sia chiarito un abbraccio di nuovo continuate ad essere meravigliosi e spero che al di là di tutto potremo godereci insieme le prossime emissioni perché durante questo nuovo decennio che sta iniziando abbiamo la possibilità di vedere di nuovo esseri umani camminare sulla Luna quindi secondo me è uno dei momenti più emozionanti in cui essere vivi ed essere appassionati di astronomia ciao a tutti grazie a tutti